Siete appunto recuperate una presenza che io non ho conosciuto, ma non è perché è passato del coso. E quindi, anche se non è Empoli, se diciamo, questo divina la fa tempo, la famiglia sta a Empoli, mi sembra logico cercare di rendere un marcio. Gli anniversari hanno un valore in qualche modo, vuol dire riprendere un momento alla memoria, vuol dire ricordarsi delle cose, vuol dire riparne rivivere e via dicendo. Quindi, loro che hanno mantenuto la casa piena con tutti i quadri e via dicendo, abbiamo con soddisfazione di avere un confronto anche all'esterno, no? E quindi, a noi qui il circolo è dal 57, che è stato prontato, quindi è un'associazione di lunga cosa. E qualche socio che ha telefonato ora, che appunto lo conosceva, partiamo via a vedere la busta, si sta andando, e c'è, mi fa piacere di vedere queste cose. Ecco, in particolare, in questo modo di riuscire a dare questo effetto di luminosità, che è abbastanza più difficile con la spazzola, in qualche modo, e mi sembra il dato più importante, ecco, in qualche modo. E poi, un'abilità nella gestualità, nel dare un corno, diciamo, che è dare l'effetto a un'esplosione, con una direzione per cui sembra che qualcosa si irrati o scenda, o scenda insieme, pur rimanendo con colori abbastanza si abilitati, in qualche modo. Allora, la gamma dei odori è sempre di vita, e questi qui, infatti, non mesi da questa parte, sono più classici, perché sono i tuoi, questi qui, su questo via, eccetera. Mentre, appunto, questi altri avevano questo modo, ma anche qui si vede, diciamo, in qualche modo. Sì, questo. La preparazione tecnica nel fare il lavoro, in qualche modo. E poi però acquisito questa sua personalità, diciamo, è sempre di ritorno in tutti i quadri. Soprattutto le marine, mi sembra, siamo molto belle, lontane, in un qualche modo. Qui si sente, i figlioli, i figlioli, i figlioli, qui si sente praticamente gli schiacciati, sul suo mondo del mare, che ritorna in maniera, direi, ossessiva. C'è quasi sempre il mare alto, cioè c'è una situazione di serenità in questa cultura. Non c'è mai irritazione. È un, a parte in quello, però, quello da eccezione, di cavallo. E se ci fate caso, questi quadri trasmettono, soprattutto serenità, non danno mai dei messaggi forci o violenti, come in altri pittori, si può dire. Anche delle forme piccole, per esempio queste due.